Dal Vangelo secondo San Luca, capitolo 13 O quelle diciotto persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non fate penitenza, perirete tutti allo stesso modo. Parola del Signore, l'Ode a Teo Cristo Oggi consideriamo che cosa insegna la Santa Dottrina Cattolica sulla penitenza. La penitenza comporta come atti essenziali il dolore dei peccati e il proponimento di non commetterne più. La maggioranza di teologi cattolici solitamente insistono maggiormente sul dolore dei peccati, perché esso è stato negato dai protestanti e perché il proponimento di non commetterne più è una conseguenza naturale del dolore dei peccati. Sui significati e l'importanza della penitenza prendo spunto dai due migliori teologi trattatisti della penitenza, e cioè Monsignor Paul Galtier, vissuto un secolo fa, e il teologo Domenico Palmieri, vissuto due secoli fa. Dice Monsignor Paul Galtier nel suo importante trattato Il concilio tridentino, in opposizione ai protestanti, definì la penitenza con le seguenti parole Un moto contrario al peccato, che si effettua per mezzo dell'odio e dell'abominazione dei propri peccati. Include il desistere dai peccati e il detestarli, cioè un cuore contrito e umiliato. Il suo primo atto è un dolore e una detestazione dei peccati commessi col proponimento di non peccare più. Da questa nozione si deduce, primo, che la penitenza non è un moto involontario, quale potrebbe essere una certa depressione psicologica conseguente all'atto del peccato, bensì un moto completamente libero, mediante il quale la volontà si decide a dare una riparazione del peccato per quanto le è possibile. Secondo, l'oggetto di questo dolore è il peccato personale commesso dallo stesso colpevole e non il suo conseguente stato di condanna e di privazione della grazia. È necessario dolersi dell'atto stesso del peccato e precisamente in quanto esso costituisce un'offesa fatta a Dio. Il timore del castigo è soltanto un motivo che può provocare quest'odio per il peccato, ma da solo non costituisce la penitenza, né a valore morale se il penitente si ferma ad esso. Terzo, ne deriva che la penitenza fa astrazione della perfezione del motivo, che può essere quello già citato del timore di Dio o quello nobilissimo dell'amore di Dio. Già che siamo costituiti nell'ordine sopranaturale, la penitenza deve provenire dalla luce in Dio che muove e stimola e accompagnarsi alla speranza di ottenere il suo perdono e di renderci a Lui graditi. Pertanto la penitenza, in senso cattolico, non è un puro timore, come ci oppongono i protestanti, benché il timore stesso possa essere il motivo iniziale dal quale si passa alla detestazione del peccato e alla speranza. Ma c'è di più. La penitenza può anche andare unita alla gioia di sentirsi perdonati e infatti si dà il caso del penitente che piange le sue colpe e si rallegra del suo pianto. La penitenza non è quindi deprimente. Anzi, si debbono raffrenare gli eccessi della sensibilità che potrebbero condurre alla disperazione. San Paolo Apostolo raccomandava ai Corinti nella sua seconda lettera a capitolo 2 «E' quindi meglio che ora voi gli perdoniate e lo confortiate per timore che quest'uomo non abbia a soccombere a causa dell'eccessiva tristezza». La penitenza attecchisce nella volontà e ci porta un conforto che non toglie completamente la tristezza ma la modera, come dice anche Santo Maso d'Aquino nella sua Suma Teologica. La penitenza non è presuntuosa come se volesse dare soddisfazione a Dio prescindendo dalla grazia sulla quale deve contare. Non si riduce nemmeno infine alla sterile intenzione di disfare un atto che essendo già stato compiuto non può venire cancellato poiché il peccatore si limita a desiderare di non averlo commesso e a cancellarne le conseguenze e cioè lo stato di offesa a Dio e i castighi che ne derivano. Necessità della penitenza La necessità della penitenza è stata definita dal Concilio di Trento. Le attestazioni della Sacra Scrittura nell'Antico e nel Nuovo Testamento Dio promette il perdono ma solo con la condizione della penitenza ed esige quest'ultima non in virtù di circostanze speciali ma proprio come condizione necessaria per concedere il perdono stesso. Nei Salmi La penitenza nei Salmi Il salmista è felice di essere stato perdonato perché si è pentito dei suoi peccati come leggiamo nel Salmo 32 Ogni ora di giorno e di notte pesava su di me la tua mano dolente io mi avvolgevo tra acute spine ma ora confesso e non nego il mio peccato A te dissi confesso le mie colpe e tu gli empi miei peccati perdonasti Per questo ogni fedele va supplicando te nel tempo del bisogno e pur se trabocchino l'acqua in piena non giungeranno sino a lui Il Salmo Miserere è tutto un canto che ripete la speranza di venire perdonato proprio a causa del pentimento come si legge nel Salmo 51 La penitenza nei profeti Profeta San Geremia annuncia che Dio si compiace del pentimento di Efraim e non può fare a meno di perdonargli Sono classici i passi del profeta Santo Ezechiele nel suo libro a capitolo 18, 21, 27, 33 Nei capitoli 18 e 21 egli proclama che il perdono divino verrà concesso nello stesso momento in cui il peccatore aprirà gli occhi e si ritrarrà dalla sua iniquità Infatti dice il Signore Mi compiacerò forse io per la morte dell'iniquo o non piuttosto che egli si converta e viva? Nel capitolo 33 si spinge ancora più oltre E Dio ammonisce il profeta che se dopo i suoi sforzi l'empio non si sarà pentito verrà condannato e il profeta stesso sarà salvo Ma in caso contrario come dice il Signore se tu non parli perché l'empio si corregga della sua condotta Egli morirà per colpa sua Ma del sangue suo chiederò conto a te Da questo testo del profeta Santo Ezechiele si deduce anche la necessità di prendere precauzioni dal momento che il peccatore viene condannato nel caso in cui non faccia penitenza anche se non c'è stato nessuno che gliel'abbia predicata e gli abbia mostrato la sua malvacità La penitenza nel Nuovo Testamento San Giovanni predica che non basta il suo battesimo per salvarsi dall'ira che sta per venire ma che è necessario anche fare degni frutti di penitenza Come si può leggere nel Santo Vangelo secondo San Matteo al capitolo 3 e nel Santo Vangelo secondo San Luca al capitolo 3 La stessa penitenza predica a San Pietro Apostolo ai giudei che dopo avere crocifisso al Signore gli domandavano col cuore pentito E cosa dobbiamo fare? Lo stesso Apostolo San Pietro raccomanda la penitenza anche assieme a un mago come si può leggere negli Atti degli Apostoli a capitolo 8 San Paolo Apostolo riassume tutta la sua missione ricordando che Dio gli disse di alzarsi per aprire i loro occhi perché passino dalle tenebre alla luce E poi dice San Paolo Apostolo negli Atti degli Apostoli a capitolo 26 Ho predicato il pentimento e la conversione a Dio con la pratica di degne opere di penitenza Sono sufficienti queste citazioni alla Sacra Scrittura che parlano di una penitenza che include la detestazione del peccato e non un puro e semplice cambiamento di vita In effetti chiunque piange cambia vita perché la sua vita passata era trascorsa nell'iniquità dimostra implicitamente la sua detestazione Ma possiamo ancora aggiungere numerosi brani in cui quest'odio per il peccato appare esplicito Tali sono quelli in cui il salmista geme dicendo nel Salmo 51 Ho peccato I tre giovani di cui parla il profeta San Daniele nel suo libro a capitolo 3 riconoscevano giusto il castigo di Giuda mentre stavano nella fornace ma speravano che sarebbe cessato grazie al mutamento dei costumi dei giudei e insieme grazie al loro cuore contrito e all'anima umiliata Stesso principio si nota anche nel libro del profeta Baruch al capitolo 2 La penitenza nella tradizione della Chiesa è evidente che si riferisce alla penitenza definendola tavola di salvezza per il naufrago che sollevò il peccatore sommerso dalle acque fino a condurlo al porto della divina clemenza La disciplina penitenziale anzitutto c'è una ragione teologica cioè la restaurazione dell'ordine morale l'uomo discostandosi da Dio per rivolgersi ad una creatura che ha inflitto un'ingiuria o offesa personale che va riparata per quanto è possibile se si deve restaurare l'ordine morale che è stato infranto Di norma le offese si compensano ritrattandole mediante il pentimento di averle commesse e la richiesta di perdono La necessità di conseguire il nostro fine ultimo mediante gli atti personali Dio ha voluto che conseguissimo il nostro fine ultimo cioè la salvezza dell'anima non solo mediante la grazia di Dio ma anche mediante atti compiuti da noi stessi La Sacra Scrittura e la retta filosofia cattolica lo esigono Orbene l'uomo che volontariamente si è posto fuori del cammino della salvezza dell'anima non può cooperare con la grazia di Dio in altro modo e col rimuovere con l'aiuto di essa l'ostacolo che gli impedisce di riceverla e cioè l'affetto per i suoi peccati facendoci ottenere la giustificazione in questo modo Dio compie un'opera più grande di quanto non farebbe perdonandoci senza esigere nulla infatti la più grande misericordia consiste nel fare del bene agli offensori e Dio concedendo la sua grazia all'uomo perché si penta e aiutandolo poi nell'atto stesso del suo dolore per mutarlo in suo amico gli fa il maggiore bene possibile già che cambia la sua stessa volontà da cattiva in buona la penitenza si deve stendere a tutti i peccati infatti basta che non ci pentiamo di uno solo perché non venga più cancellata l'offesa fatta a Dio e quindi l'ordine morale non venga restaurato e l'uomo non si incammini più verso il suo fine ultimo e metta in pericolo la stessa salvezza della sua anima ora consideriamo che cosa ci insegna il teologo Domenico Palmieri nel suo Tractatus de Penitensia pubblicato nell'Ottocento in cui afferma che non è sufficiente nella penitenza un pentimento qualsiasi è necessario detestare il peccato come offesa fatta a Dio dice il reverendo Palmieri la penitenza come virtù speciale detesta il peccato in quanto esso costituisce un'offesa fatta a Dio Dio come principio e fine di tutto il creato ha diritto a che ogni creatura razionale riconosca la sua dignità lo conosca con l'intelletto e lo ami con la volontà anzi in questi due atti consiste l'unico onore strinseco che possiamo tributare a Dio questo diritto divino comporta da parte nostra il dovere di fare la volontà di Dio perché la creatura non gli sarà sottomessa come opportuno se non la compie né tenderà al suo fine ultimo finché non esercita quegli atti che Dio prescrive ed esige a tale scopo quindi il peccato negando questa obbedienza nega e sottrae a Dio l'onore divino perpetrando un'ingiuria e un'offesa negando il diritto di Dio lo ingiuria e negandogli l'onore lo offende è chiaro che l'ingiuria e l'offesa si limitano a privare Dio della sua gloria strinseca perché la gloria intrinseca è intangibile orbene lo stesso diritto che esige si tributi onore ad una persona reclama che le venga offerta una riparazione se quell'onore è stato leso questa riparazione deve essere spontanea come lo è stata l'offesa e deve consistere nel tributare gli onori necessari per compensarla l'uomo non poteva offrire questa compensazione con degna e Gesù Cristo lo fece in suo nome ciò nonostante egli ci impose l'obbligo di porre qualcosa da parte nostra affinché con l'aiuto della Santa Grazia ottenessimo che ci fossero applicati meriti soddisfatori del Celeste Redentore in caso contrario saremmo rimasti soggetti assolutamente contro la nostra volontà a un Dio vendicatore del suo diritto tornando a questo diritto divino dobbiamo sottolineare che esso non si limita ad un puro diritto all'obbedienza da parte nostra Dio ha invece il diritto di essere onorato ed è importante porre nel debito risalto questo punto perché il diritto all'obbedienza di per sé non esige compensazione alcuna nel caso che sia stato infranto mentre il diritto all'onore esige una soddisfazione da chi si attentasse a defraudarlo da quanto abbiamo detto si conclude che se il peccato è un'ingiuria e un'offesa fatta a Dio deve essere espiato mediante atti personali del penitente tali atti altro non sono se non quelli della detestazione del peccato e del proposito di emendarsi essi sono essenziali e costitutivi della penitenza ambedue sono essenziali colui che da uno stato ingiusto aspira a passare ad un altro giusto in questo caso dalla condizione di offensore a quella di suddito fedele e di amico deve riconoscere l'ingiustizia dello stato in cui vive colui che ha offeso deve offrire la piccolissima compensazione di riconoscere almeno che ha agito male secondo quel che abbiamo detto dobbiamo pentirci del peccato in quanto costituisce un'offesa fatta a Dio ma una cosa è pentirsi dell'offesa perpetrata contro Dio e un'altra è pentirsi di essa precisamente perché è tale è provato e la sacra scrittura insiste su questo punto che non basta pentirsi del peccato senza metterlo in relazione con Dio in qualche maniera come farebbe chi si pentisse per paura dei giudici della terra che possono punirlo tuttavia i mezzi o i motivi attraverso i quali si perviene a questo dolore di avere offeso Dio possono essere diversi e più o meno puri se il pentimento è mosso proprio dalla considerazione del peccato come offesa fatta a Dio allora chi lo stimola è la virtù della penitenza esso però può anche essere imposto dalla carità o mosso dal timore del castigo eccetera il modo migliore per fare penitenza è anzitutto esercitarsi nelle sante virtù in special modo nella sante virtù della carità e della pazienza ed esercitarsi nelle sette opere di misericordia spirituale e corporale le sette opere di misericordia spirituale sono consigliare i dubbiosi insegnare agli ignoranti ammonire i peccatori consolare gli afflitti perdonare le offese sopportare pazientemente le persone moleste pregare Dio per i vivi e per i morti le sette opere di misericordia corporale sono dare da mangiare agli affamati dare da bere agli assetati vestire gli ignudi alloggiare i pellegrini visitare i malati visitare i carcerati seppellire i morti chi compirà fedelmente queste opere osservando anche le santi leggi di Dio sarà salvo e avrà la vita eterna siano sempre lodati benedetti ringraziati e amati i santissimi nomi di Dio di Gesù di Maria Santissima e di San Giuseppe e di San Giuseppe